MVP per l'ultimo torneo di qualificazione per gli europei Under-19, una grande soddisfazione per te? Sì, una grandissima soddisfazione, non me l'aspettavo e spero di continuare così. Che obiettivi avete per questo europeo per la prossima estate? Sì, vincere l'europeo. Vincere l'europeo? Sì. Negli ultimi giorni è arrivata anche la grande soddisfazione, si parla di una convocazione per un collegiale con la squadra Signores del Citi Bonitta, cosa ne pensi? È una bella esperienza da fare e sono felice di questa notizia e allo stesso momento spaventata. Da due anni sei a Milano, arrivi da una piccola realtà come Cittadella, come ti trovi in questa grande metropoli? Bene, però preferisco Cittadella perché è molto più piccola. Dovendo descriverti, sei nata come opposta, ora giochi da schiacciatrice, che giocatrice sei? Buono, non saprei descrivermi così. Che tipo di palla ti piace attaccare? Qual è il tuo attacco migliore? Penso la palla 5, che è una palla lenta dove posso prendere il tempo. Su cosa devi e puoi migliorare per arrivare nella pallavolo di Serie A e a livello internazionale? La ricezione, quindi a baghe.